Nacque a Milano nel 1934. Creebbe artisticamente a Roma, iniziando con piccoli ruoli, ma fu il teatro la sua grande passione. Nel cinema impersonò l'impresario Pavia nel film Tournée, ed il Pope, nel film vincitore dell'Oscar 1992. Mediterraneo, entrambi di Gabriele Salvatores, come doppiatore ha prestato la voce a MR. T, mentre, come attore, ha partecipato a numerose fiction rai e media set. Negli anni 1990 è presente negli spot pubblicitari, in televisione nella fiction, un medico in famiglia nel ruolo di Carlo Foschi ed infine nella fiction, il maresciallo Rocca nel 1996. Nel 2003, e nel 2005, nel 2007 partecipa interpretando diversi ruoli nello sceneggiato di Veronica Pivetti Provaci. Ancora prof. Nel 2008, partecipa alla serie televisiva I Cesaroni nel ruolo del dottor Zorzi.